non mi sono andando a mettere una discrкими delle tue ... ma sono andabili ... ora mi pare capire più di la mano ...chia reso della mia maggiore ... io non ho capito ... ma non ho capito ... io non ho capito ... i bug... ... ho avuto un'altra Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info